Gli infermieri doni, anche i foggiani, scrivono al Ministro Speranza per chiedere un aiuto e risolvere la grave situazione di carenza e precariato. Lo fanno attraverso una lunga missiva fatta recapitare al Ministro Speranza, nella quale illustrano la situazione che si è creata, dando la possibilità alle aziende ospedaliere di stabilizzare i precari covid, ovvero quelle persone che hanno conseguito i 18 mesi in piena pandemia. Tanti professionisti che intanto avevano superato un normale concorso pubblico previsto dalla Costituzione, ad oggi in tutta Italia, si vedono scavalcati dalla stabilizzazione dei precari covid, i quali, dicono nella lettera, non hanno superato alcun concorso e che non sono mai andati via dalla propria terra. Professionisti che speravano, nello scorrimento delle graduatorie, che si ribadisce, stanno per essere scavalcate dai precari i 18 mesi. Ad oggi siamo in tantissimi, scrivono gli infermieri, soprattutto tanti infermieri del Sud, che ora si ritrovano al Nord, dove hanno superato concorsi pre-pandemia, in quanto il Sud, prima della pandemia, bandiva pochissimi concorsi, offrendo anche pochissime possibilità lavorative. Infermieri che, vincolati al Nord, non hanno abbandonato mai la speranza di rientrare a casa, ovvero dei loro familiari, dopo tanti sacrifici. Anche noi al Nord, dicono gli infermieri, abbiamo fronteggiato la pandemia da covid, ma ad oggi non siamo stati premiati. Anzi, per non parlare di coloro che non hanno diritto alla stabilizzazione, a cui mancano pochi giorni per raggiungere i 18 mesi, perché assunti attraverso agenzie interinali di coloro che lavorano con partita IVA. Se avessimo saputo, dicono, che la pandemia avrebbe prodotto tanti risultati, noi tutti avremmo abbandonato il nostro posto fisso al Nord, per fiondarci ed accettare incarichi covid al Sud. Però questa è un'altra storia, scrivono. Ora, diciamo che i precari covid vanno premiati, ma anche noi dobbiamo esserlo. Per questo, gli infermieri chiedono al Ministro Speranza la proroga ad esaurimento delle graduatorie concorsuali in atto, così da non svanire i sacrifici economici ed affettivi di aver superato un concorso, con la speranza di poter ritornare a casa nella propria terra.